Giro domenicale, partiamo sempre dal fiume, come sempre, però che, boh, dove andiamo? Non lo so, tanta Monica per andare a vedere, ma non si sentiva fuori, boh, e vediamo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Ochri�. Yeah. It's no other right. Let's get involved. Be the tide on board bike and it's on board with a selfie and I, the view on board of these videos. Grazie a tutti. Grazie. 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 di giri, fa un rumorazzo, poi sarà qualche problema a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo visti un po' di macchinine. Dai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.